Ah ti devo parlare che succede? No vabbè niente di non mi è arrivato un bonifico Stasera devo andare a casa di mia suocera Non è che posso andare, capito? Devo far vedere se mi puoi prestare 100 euro 100 euro? E me lo dici via il telefono? Scusa ho bisogno di soldi Anche perché mo non so se sta... E vedi bene Eh sta, 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 ci vediamo Vabbè come va? E che di notte devo dire Tu domani mattina stai al bar? Sto al bar? Dici a mezzo di un giusto al bar Allora ci vediamo domattina e... Tranquillo vai, divertiti Grazie No, una mezzetta e me ne vengo Va bene Va bene, fammi più, ciao Ci sentiamo, ciao, ciao Voglio precisissimo, grande Manca a faraposte, paccare, 11 qua Com'è andata la cena? Ah, è grande, buono, buono Senti, io ti devo dare 100 euro Allora, facciamo una cosa Tu non mi dai altri 100 euro, domani ci vediamo ti do 200 euro Dai, siamo amici, non è che due strane Capito, no, voglio dire Ci vediamo A tutti i sermo, eh Lo so, infatti, ma a me mo come sermo E vedi, ce li hai Quando c'è l'amicizia, capito? Siamo amici, non è che diciamo due strane Ce li hai, sì Sì, non so se arrivo, eh Vedi bene 30 30 50 50 E c'è E c'è E quindi? Quindi domani ti devo dare 200 euro Oh, però Grazie a te Chiamami amici No, no, però Ciao Grazie Amico mio Come va? Tu sta a posto Allora Allora Io ti devo dare 200 euro 200 euro Allora, facciamo una cosa Adesso mi dai altre 100 Domani ti do 300 Preciso Individa 200 euro Mi chiedi gli altri soldi Perché non te li devo dare E che si dì? Però, voglio dire Non è che puoi stare sempre a chiedere No, vada L'amico L'amicizia finanza il tuo buono E i soldi Ma non è che dici che uno Sparisce Sto qua No, capito? L'amico che non è l'estraneo Tu mi dai 100 euro Domani ti do 300 euro Quello è Che non riesco manca a dirti no Che poi non è che uno viaggia sempre con 100 euro Vedi bene, vedi Oh, vedi che stanno Non stanno 7, no 90 90 Mi accontento Tanto il calcolo è facile Quanto è che ti devo dare 200 mi hai dato 90 Domani ti devo dare 2,90 2,90 È facile Oh, grazie a stare Domani Domani 2,90 Ci vediamo Ciao Ciao Sì, al parchettino Sì Sì E poi Va bene Dai, ti chiamo Ci sentiamo Qui Ehi, fammi chiude Dai, che devo Devo rispondere una cosa Sì Mi chiamo io Ciao Ciao L'amico mio Amico mio Tutta a posta Tutta a posta Allora Io ti devo dare 2,90 euro A me Quando mai Tu a me Non mi risulta che Tu mi devi dare 2,90 euro No 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 Non Giàは Ma No Ci sentiamo Bene Che vada a cena Semoga Tu consumii Solti Mo Venga by Amico 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 metè Vai Gli Dai Dio Di Venga Grazie a tutti!